Guerra! Napoleone ha invaso la Russia! Guerra! Guerra! Oh, e tutti i nostri piani? Saremmo stati genitori? Beh, ci sarà un piccolo cambiamento. Invece di genitori saremmo profughi. Ma è terribile! Prendiamo la nostra roba e fuggiamo. Io sono bravo in questo. Sono stato campione di fuga stile libero per due anni di seguito. Bruciamo le cibarie, che non le prendano i francesi. Il guaio sarà bruciare il brodo. Boris! Cosa? Io ho un'idea. Quale? Un attentato a Napoleone. Sì, interessante. Ma è un po' tardi. Ci manipoli la cena? Ma dico sul serio! Ma sul serio cosa? Che tu e io uccideremo Napoleone. Hai bevuto dal bicchiere dove bevelo scemo del villaggio? È la risposta ai nostri problemi. Non è la risposta, è una risposta, quella sbagliata. La risposta giusta è fuga. F-U-G-A, fuga.